Misteri TikTok Emoji Bag con Pignatta Arcobaleno Oggi vediamo che sorprese possiamo trovare all'interno di queste bustine misteriose Ma prima, sigla! YOLANDA SWEETZ Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video Come state? Spero tutto bene e come avete passato la vostra giornata Spero bene! Ciao a tutti amici, io sono YOLANDA SWEETZ Ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire insieme Delle mystery bag di TikTok Ovviamente, come ho detto prima, sono misteriose perché su ognuna ci sono delle emoji All'interno di questa ciotolina abbiamo appunto le emoji Corrispettivamente uguali alle bustine Quella che noi scegliamo, quella dobbiamo andare ad aprire E come ultima cosa gigante e bonus Abbiamo la nostra pignatta stupenda di TikTok Con la mega sorpresa arcobaleno Dobbiamo andare a vedere ovviamente se riusciamo ad arrivare alla fine di questo video Prima di iniziare ovviamente lasciate un bellissimo pollice in su Iscrivetevi ed attivate la campanella Tutti i giorni nuovi video alle ore 14.30 Prima di iniziare questo video vi volevo ricordare che ci possiamo incontrare Il 14 ed il 15 di agosto a San Nicola Arcella, provincia di Cosenza in Calabria Dalle ore 20 in poi In Corso Biagio Lomonaco Avrò il mio stand, la mia bancarella con slime e merchandising Prima di iniziare questo video dovete farmi sapere giù nei commenti Qual è l'emoji che voi utilizzate di più Quella che su Whatsapp voi utilizzate di più Qual è l'emoji che voi utilizzate di più Io utilizzo quella che piange ma ride tantissimo E il cuoricino Allora io direi di cominciare Ovviamente la sorte sceglierà Perché qua abbiamo la ciotolina con come ho detto prima Le emoji Quindi andiamo a mescolare un pochettino questa ciotolina E andiamo a beccare la prima emoji Ecco il mood della mia vita Allora abbiamo beccato l'emoji che piange Bene dobbiamo andare a pescare 4 buste Perché sono 8 buste in totale 4 buste con dentro dei mystery toys Lo voglio dire perché probabilmente non l'ho detto all'inizio Andiamo quindi ad aprire la nostra busta E ragazzi abbiamo un regalo Abbiamo il regalo misterioso Attenzione all'interno della busta misteriosa di Titto Andiamo ad aprire il regalo E vediamo cosa c'è Che figo Allora che cos'è questa cosa? Abbiamo trovato un gioco di Minecraft Bisogna rompere questo gioco Bisogna rompere Tac 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 Ci sono i tesori all'interno Andiamo a vedere che cos'è Qua ci sono ovviamente le istruzioni E tutto quello che possiamo trovare all'interno E i personaggi che possiamo trovare No vabbè ragazzi che figo Allora Scartavo Qua c'è la scatolina Che cosa c'è? Ci sono i cuoricini qua dentro ragazzi Allora rompiamo Eccolo Abbiamo rotto col martelletto No vabbè Allora qua dentro c'è anche la sabbia Allora attenzione Apriamo Questo E vediamo cosa troviamo Sopra c'è scritto Minecraft Mamma mia Oh ragazzi ma Non c'è la sabbia Ma ci sta lo slime Ma ci sta lo slime C'è lo slime Ok Questa cosa mi ha Scioccata abbastanza C'è lo slime Ragazzi dentro Abbiamo trovato Lo slime Ecco Allora questo è quello Che abbiamo trovato Ditemi un pochino voi Qual è il nome Può darsi che ci sta scritto Qua dietro Si C'è scritto il nome E' lo zombie Attenzione ragazzi Quindi abbiamo trovato Lo zombie E qua dentro C'è altro slime C'è altro slime Ma ragazzi ma Queste ma Volete che io vada Ad aprire altri Di questi Ci faccio proprio Un video apposta Ragazzi ma Sono bellissimi Però mi dovete dire Proprio i nomi I nomi di tutte queste cose Ovviamente questi cuoricini Dovevano essere messi All'interno dello zombie Ragazzi comunque Vi posso dire Che è un'idea Proprio geniale Adesso andiamo A prendere La prossima emoji Questa Si Quella che fa Così Facciamo la linguaccia La linguaccia Sta qui E anche questo Pesa un pochino E anche qua Abbiamo trovato Un altro pacco regalo Cosa ci sarà All'interno di questo pacco regalo Scatta la carta Scatta la carta Ragazzi Wow E' un personaggio Della Pixar Ed è un Funko pop Cosa sono Queste cose Bellissime Questi sono Dei personaggi Dei corti Della Pixar E noi Abbiamo trovato La notte Della Pixar Potevamo trovare Anche ovviamente I personaggi Rari Però Ovviamente Abbiamo trovato Quello Normale E noi abbiamo trovato Giorno E notte Quello di Minecraft Al momento E' rimasto Il mio preferito Altre due Altre due Apriamo 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 Vediamo Questa Altro Altro mood Della mia vita Ragazzi Ovviamente Quella che Che piange Incessantemente Ed è questa Ma è leggerissima Ci sta qualcosa Dentro Oddio Yes C'è qualcosa Dentro E c'è Il regalo Scarta La carta Come sempre Scartiamo La nostra Carta Ragazzi Sempre In tema Minecraft Guardate qua Che bello E' Uno Squishy Ragazzi Esce Un profumo Da qua Dentro Pazzesco Mojang Minecraft E' il maialino Di Minecraft A forma Di Squish Ovviamente E' uno squishy Morbidoso Ma quanto E' carino Allora Dobbiamo andare A prendere La nostra Ultima Bag Con l'emoji E vediamo Un pochettino Se siamo fortunati Oppure noi Poi dobbiamo Aprire La stella Olè Allora Abbiamo L'emoji Con gli occhiali Bellissimo Ed è Questa Allora E' pesantuccia Andiamo a togliere Le altre bustine Da qui E C'è il regalo All'interno Ragazzi Andiamo a vedere C'è il regalo C'è il regalo Sempre scarta La carta Ho visto qualcosa Di fichissimo Ragazzi Roblox 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 Abbiamo trovato Un regalo Di Roblox Ma questi regali Sono bellissimi Dentro queste Mystery Bag Allora Vediamo un pochettino Cosa troveremo In questa scatola Misteriosa Un personaggio Misterioso Di Roblox Voi giocate ancora Roblox Ragazzi Io ci ho fatto Un po' di partite Anche sul mio canale Andatele a vedere Se ve ne siete perse Ok Che bello È un personaggio Di Roblox Tipo Lego Sembra Ma è da montare Oddio è bellissimo Ragazzi È fighissimo Ok Mettiamole anche i capelli Che bei capelli Che ha Abbiamo trovato Lei E ha anche Come pet Un gattino Ragazzi Vediamo se ha un nome Exclusive visual item Ma è bellissimo Li possiamo collezionare tutti Ma guardate quanti ne sono Allora abbiamo trovato Star Sorority Persephone Hanno un nome Ognuno di loro Ha un nome Ragazzi È bellissima Bellissima Queste mystery bag Con questi pupazzetti Questi giochini Sono stati I miei preferiti Ragazzi Che ve lo dico a fare Minecraft È stato proprio Il mio prefe Perché all'interno È uscito Lo slime Comunque Adesso Ragazzi miei È arrivato il momento Di scoprire Cosa c'è All'interno Di questa Stella Questa qui Di tiktok Misteriosa Andiamo a mettere La mano All'interno E Ecco la nostra Sorpresa Gigantesca Ragazzi La nostra sorpresa Dobbiamo scartare La carta E dobbiamo vedere Cosa troviamo Siete pronti 3 2 1 Oh Mamma mia Ragazzi Aiuto È bellissima Abbiamo trovato Una figure Un vinile Di Luna Lovegood Di Harry Potter È fatta bene Sembra quasi un fan Come infatti Sì è un fan Con fan Comini Guardate Di Harry Potter Potevamo trovare Tanti personaggi Che ci sono qua dietro Guardate quanto sono belli Tutti quanti i personaggi Ma noi abbiamo trovato Luna E devo dire che sono Molto molto contenta Ragazzi Allora Cosa dire Volete un secondo episodio Di questa serie Dove vado a scegliere Le bag di tiktok Con i giochini misteriosi Fatelo sapere In un commento Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Spero che vi sia piaciuto Intrattenuto e strappato Un sorriso Come sempre Vi voglio bene Un bacione Un abbraccio a tutti E noi ci vediamo domani Alle 14.30 Con un nuovo video Ciao amici Ciao amici